Carissimi amici e amiche, bentornati dopo un po' di sosta con tempi, non dico biblici, ma quasi a questo nuovo incontro di catechesi bibliche. Purtroppo questo ciclo di catechesi dovrebbe avere cadenza bimezzile, appaiandosi con il catechismo di Pio X nelle giornate del mercoledì, perché come chi mi segue sa quest'anno lunedì siamo impegnati con la catechesi diciamo dogmatica, quindi di formazione dottrinale, di santa dottrina cattolica che è dedicata ai nuovissimi, mentre il venerdì stiamo in formazione mistico spirituale con tenera amata, poi ci manca la formazione biblica, ci manca anche la formazione catechetica. Purtroppo il fatto che a pochissime seralibe poi mi si accavallano altri tipi di impegni, altri tipi di attività che sono sopravvenute e quindi mi hanno fatto purtroppo stare un pochino assente. Io molto volentieri mi dedico a queste cose, però come sappiamo al momento sono uno e posso fare una cosa in contemporanea, quindi poi vedremo se in futuro ci saranno eventuali aggiornamenti, lo tengo improbabile, insomma non mettiamo ormai limiti alla divina bontà. Quindi riprendiamo il nostro percorso che purtroppo si è interrotto un bel po' di tempo fa, perché qui stiamo addirittura fermi al 25 gennaio, è saltata proprio completamente la sessione, ogni sessione di febbraio, che sono stato veramente pieno di un sacco di impegni. Vabbè, la volta scorsa abbiamo cominciato però a vedere il ciclo di Davide, dopo aver vista focalizzata la drammatica storia di Saul, brutta storia anche se formativa, abbiamo cominciato a vedere la storia di Davide e quindi la sua ascesa, la sua rapida ascesa e quindi poi immediatamente l'odio e l'invidia di Saul verso Davide, specialmente dopo la vittoria contro Golia. è a fronte di questo odio incipiente del re e l'inizio anche dell'amicizia con il figlio del re che è Jonathan e ci siamo fermati più o meno lì. Adesso condividendo un po' schermo andiamo a riprendere un po' le file del discorso, eccoci qui, e andiamo a vedere dove ci siamo esattamente fermati e da dove dobbiamo riprendere, perché ci siamo fermati precisamente appunto con la gelosia e l'odio di Saul nei confronti di Davide. Vedremo che i passi salienti che ci mancano fino alla morte di Saul, quindi perché il regno, l'ascesa di Davide coincide, è in concomitanza con il declino e poi la morte drammatica anche questa di Saul, brutta fine, innanzitutto un episodio increscioso, perché vedete quando gli affamati e gli assetati di potere che poi cadono in disgrazia agli occhi di Dio perdono il senno cominciano a fare delle cose bruttissime, cioè massacro dei sacerdoti di Nob per odio a Davide e tutto questo odio è ricambiato da Davide con i prodromi dell'amore al nemico, perché per due volte, come si legge nel capito di 24 e 26 del primo libro di Samuele, Davide ha la possibilità di uccidere Saul e non lo fa, e non lo fa perché era l'unto del Signore. Sono questi, ne parlo subito, poi possiamo andare a leggere il testo biblico, ma più ancora che la lettura del testo è importante il significato, a parte ripeto il prodromo dell'amore al nemico, la motivazione per cui Davide non tocca Saul è il consacrato del Signore e quindi mi sta facendo del male, sì, avrei tutto il diritto, a quei tempi c'era senza nessun problema di fare giustizia, sì, ma non lo faccio perché è il consacrato del Signore ed essendo il consacrato del Signore numero uno, chi lo giudica è il Signore, numero due per me rimane sempre il consacrato del Signore. A me sembra veramente di vedere in questo atteggiamento un prodromo di ciò che per esempio fece, praticò e insegnò San Francesco, che per certi aspetti è sempre attuale. I tempi di San Francesco c'erano consacrati del Signore, non consacrati di re, ma consacrati di un annunzione ancora più grande che era quella dell'ordine sacro, che erano totalmente indegni e quando sottoponevano quei casi di San Francesco, San Francesco diceva io non voglio sentire niente, questi sono sacerdoti, questi consacrono il corpo di Cristo, il resto serve del Signore con loro. Questo ci dà anche un po' un parametro di azione, perché anche oggi, amici casi purtroppo, si vedono tante cose e non è che noi possiamo dinanzi a tante cose fare vinta di non vederle oppure chiamare bene il male o male il bene. Il problema è che i consacrati del Signore specialmente, chi può metterci le mani, a parte chi ha il diritto esclusivo di giudicarli ed eventualmente anche di toccarli, è il nostro Signore. Davide non lo uccide Saul, aspetta che gli eventi facciano il loro corso. Saul è stato riprovato dal Signore, quindi aveva le ore contate e sarebbe morto drammaticamente in battaglia. Non prima, attenzione, di andare a fare una cosa un altro guaio grosso quanto una casa, perché Saul a un certo punto si rega da una maga, da una stregonna, da una strega, nella grotta di Endor per andare a devocare lo spirito di Samuele. Pratica la divinazione. Questo brano ci andiamo a leggere, perché poi, vedete, pratica la divinazione e Samuele compare veramente. E gliene dice un sacco, una sporta. Lui che è stato nel regno della verità può, e poco dopo Saul muore drammaticamente in battaglia. E poi vedremo anche la reazione di Davide dinanzi alla morte di Saul, quindi un ulteriore attestato della grandezza d'animo di quest'uomo. Davide certamente è stato un grande agli occhi del Signore. Come vedremo però anche lui, un grande destinato però a cadere anche lui, non indifferentemente, e a trovare poi misericordia. Non dimentichiamo mai che Davide è l'autore della stragrande maggioranza dei salmi, degli scritti lui, sotto ispirazione. La preghiera ufficiale è la preghiera pubblica della Chiesa. Veramente una stragrande quantità di salmi sono stati da lui, che tra l'altro li cantava accompagnandoli con la cetra. Allora, andiamo a leggere qualcosa di questi brani. Un cenno rapido al massacro dei sacerdoti di Nod, una cosa bruttissima. Aspettate che adesso condivido, cambio la schermata di condivisione. Passiamo alla sacra scrittura, così per chi sta seguendo la diretta e per chi vedere il video è un po' più facile a seguire. Allora, qui siamo nel capitolo 26, come sempre a vedere la sinossi dei brani. Saulo si mostra e scende verso il deserto di Ziffo per ricercare Davide. Sta perseguitando. Davide si accorge che Saulo lo insegue, siamo in versetto 3, mando 4, mando alcune spie, che gli conferma che è arrivato davvero. No, scusate l'ho sbagliato e questo è, ci picchia, questo è esatto, ma scusate, questo è l'episodio semplente, quando Davide risparmia la vita a Saulo. Allora, scusate, Saulo per sapere che era stato avvistato Davide con gli uomini che erano con lui. Era avuto a Gabba, sotto il tamerisco dell'altura, eccetera, eccetera. Ci ascoltate voi, benvenuti, il figlio di Iesse, dalla forza a tutti voi che hanno più bene perché voi tutti siano d'accordo con me, nessuno mi avverte dell'alleanza di mio figlio con il figlio di Iesse, nessuno di voi si affligge per me e mi confida che mio figlio è sollevato il mio salvo contro di me, per non dire in serie come avviene oggi. Rispose un tizio, appunto, doveva domina, dice, guarda, l'ho visto, è figlio di Iesse, è venuto a Nob, da Achimelec, e gli ha consigliato il signore per lì, aveva da mangiare, gli ha consigliato la spada di Goli e il figlio di Iesse. Il sacerdote, Achimelec, lo interroga perché gli si era accordati contro di me, eccetera, eccetera, Achimelec risponde, chi tra tutti i tuoi ministri è come Davide, fedele, genero del re e capo del corpo di guardia in casa tua? Non l'avesse mai detto. Quindi, devi morire da Achimelec tutta la casa di tuo padre e gli fa massacrare dei sei cordieri, scagliatevi contro i sacerdoti del signore e metteteli a morte perché hanno prestato mano a Davide e non mi hanno avvertito, pur sapendo che egli fuggiva. i ministri del re non vogliono stendere la mano per colpire i sacerdoti del signore, vedete la differenza, no? I ministri del re non fanno questa cosa, allora dice a Doeg, Edomita, scagliati tu e colpisci figli e li ammazza tutti quanti. Certamente lo fa un Edomita, quindi un non ebreo, ma lo fa su ordine di Saul, quindi ha voglia di dire che l'ha fatto Edomita, no? E questo è il primo episodio. Poi c'è il secondo, che appunto stavo introducendo prima per errore, perché è il capitolo 26. Saul si accampa, Davide arriva al luogo dell'accampamento, non c'è il posto, Saul stava dormendo, versetto 6, e allora vanno all'accampamento. Davide, uno dei luogotenenti di Davide, gli dice, guarda oggi ti ha messo nelle mani il tuo nemico, lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia di un solo colpo e non raggiungerò il secondo. Ma Davide disse a Davide non ucciderlo, chi mai ha messo la mano sul consagrato del Signore ed è rimasto impunito. Davide soggiunse, guardate, per la vita del Signore solo il Signore lo colpirà, o perché arriverà il suo giorno e morirà, o perché scenderà in battaglia e sarà tolto di mezzo. Il Signore mi guardi, dallo stendere la mano sul consagrato del Signore. Ora prendi la lancia che sta presso il suo capo e la brocca dell'acqua e andiamoci. Guardate amici miei, questi due versetti, facciamoci un bel quadretto e attacchiamoci sul letto come sempre e dico il Signore lo colpirà, o perché arriverà il soggiorno e morirà, o perché scenderà in battaglia e sarà tolto di mezzo. Io invito a fare applicazioni di questi versetti attualizzati, dinanzi a problemi abbastanza seri e che però hanno come protagonisti i consagrati del Signore. Che vogliamo fare? Facciamo giustizia a noi? Non si può. Perché i consagrati del Signore tocca soltanto i consagrati del Signore. Vedete che oggi in giro se ne vedono davvero tanti amici cari e a tutti i livelli, dal più basso grado dei consagrati del Signore fino ai gradi più superiori. E che cosa vogliamo fare? Dice ma no, bisognerebbe che cosa? Se non si può toccare la mano contro un re che è il consagrato del Signore, qui sarebbe adesso da aprire una bella parentesi su quando ancora i re e gli imperatori, vabbè lasciamo perdere, forse sarebbe meglio. Figuriamoci, rispetto su un consagrato, in signorato del sacerdozio di Cristo e dell'Ordine Sacro, per esempio di San Francesco. Questo è il primo delle episodi. E poi certamente Davide fa portare via la brocca della lancia e dopodiché però Davide grida. Se non risponderai Avner? C'è chi sei tu che gridi al re? Dice non sei un uomo tu. E chi è come te in Israele? Perché non hai fatto la guardia del re tuo Signore? È venuto infatti uno del popolo per uccidere il re tuo Signore. Non hai fatto certo una bella cosa. Voi siete degni di morte. Non avete fatto la guardia del vostro Signore, al consagrato del Signore. Ora guarda dove è la lancia del re e la brocca che ha presso il capo. Saulo riconobbe la voce di Davide e disse è questa la tua voce Davide figlio mio? Dice è la mia voce, è la mia voce, ovvero Signore. Dice ma perché il mio Signore persegue il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male si trova in me? E alla fine Saulo gli risponde Davide, ho peccato, ritorna Davide, figlio mio non mi farò più del mare perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. ho agito da sciocco e mi sono completamente ingannato e Davide risponde ecco qui la lancia del re. Ma Saulo come sappiamo purtroppo fa le promesse del marinaio perché nel capitolo non passa tanto che nel capitolo 28 abbiamo di nuovo una malazione scusate non nel capitolo 28 nel capitolo 24. Accipicchia. Prima del capitolo 26, perdonatemi amici, purtroppo stasera mi stava facendo un pochino di giochetti strani l'ordine di ricerca dei librani che ho memorizzato nell'applicazione che si sono invertiti. Va invertito il 22 col 26 col 24, l'ho fatto ma c'è lo finisce mai. Quindi prima del 26 del secondo episodio c'era un altro che era il capitolo 24 che è la prima volta che Davide grazie a Saulo. Questa volta non prende la brocca dall'accampamento vicino a dove stava dormendo ma addirittura gli prende, gli taglia un lembo del mantello. È molto bello, vedete che quando Davide taglia il lembo del mantello si sentì battere il cuore. Bellissimo, è una situazione tipica di Samuele, no? Un lembo del mantello. Gli uomini di Davide gli dicono ecco il giorno in cui il Signore di Davide gli pongono le mani del tuo nemico, trattalo come vuoi, mi guardi il Signore, versetto 7, da fare una cosa, se dire mio Signore è il consagrato dal Signore, dallo stendere la mano su di lui perché gli è il consagrato dal Signore. E però prende il lembo del mantello. Quindi abbiamo due episodi, perdonatemi se l'ordine purtroppo l'ho invertito, in cui Davide grazie a Saulo. Sempre, addirittura la prima volta che aveva osato tagliargli il lembo del mantello si sente battere il cuore, no? Hai visto quando faccio qualche cosa che non vanno, che ci prende il coccolone, come si dice a Roma, no? Quando ci vengono i batti cuore, quello vuol dire che stiamo facendo qualche cosa di gravemente sbagliato e la nostra coscienza non solo ci rimorde, ma si agita, si mette in agitazione profonda. Sono molto edificanti a mio avviso questi episodi e anche, ripeto, molto attuali. Ora, sperando di non combinare altri guai con le scalate dei capitoli, andiamo al capitolo 28 a vedere appunto questo episodio della divinazione. Nel Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui, avevano seppellito al ramo della sua città. Ora, Saulo aveva, quando ero dalla terra, i necromanti e gli indovini, ma i filistei si radunano e quando Saulo vede il campo dei filistei ebbe paura del suo cuore delle morte. Allora che cosa fa? Saulo consulta il Signore, ma il Signore non gli risponde. Non gli risponde perché, come ormai sappiamo, Saulo o il Signore ha chiuso, quindi è solo questione di tempo. E allora va in cerca di una necromante e gli dicono che c'è una necromante a Endor, capitolo 28, versetto 7. Parte, si camuffa, perché non vuole farsi riconoscere, arriva lì e dice, pratica, mi permette la divinazione mediante uno spirito, evoca quello che ti dirò. E la donna gli rispose, guarda che Saul li ha banditi i necromanti, quindi che fai? Non ti faccio questa cosa, tu devi fare la spia e questo poi mi uccide. Saulo dice, no, per la vita del Signore non avrei alcuna colpa per questa faccenda. Chi deve evocarti? Evocami Samuele. La donna, vede Samuele, proluppi in un forte grido e disse a Saulo, perché è ingannata? Tu sei Saulo, le rispose di non aver paura. Dice, cosa vedi? Vedo un essere divino che sale dalla terra. Le domandò che aspetto ha, è un uomo anziano che sale dal volto in un mantello. E Saulo comprende che era veramente Samuele e si inginocchia con la faccia a terra e si costrò. Adesso sentiamo bene cosa ti dice Samuele. Perché mi hai disturbato evocandomi? E Saulo risponde, sono in grande angustia, i filisteni mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me, non mi ha più risposto né attraverso i profeti né attraverso i sogni, perciò ti ho chiamato, perché tu mi manifesti quello che devo fare. E Samuele rispose, perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che hai detto per mezzo mio. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato da un altro, a Davide. Poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non hai dato corso, ricordiamo, è all'ardore della sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Il Signore metterà Israele insieme con te nelle mani dei filistei, domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore metterà anche le schiere di Israele e le mani dei filistei. All'istante sta Occate, terrorizzato, poi la donna lo fa riprendere. Questo passaggio, amici cari, è un passaggio drammatico. La vicenda di Saulo è una vicenda drammatica. Io la sintetizzerai in questo modo, perché attenzione che anche questo è un discorso ed è, come tutto ciò che si trova nella parola di Dio, qualcosa di molto molto serio e di molto molto attuale. Allora, la misericordia di Dio domanda è infinita? Oh, certamente sì. La misericordia di Dio è infinita. La pazienza di Dio, domando, è ugualmente infinita, amici? La risposta è che la misericordia di Dio è infinita, ma la pazienza no. La pazienza no. E noi non possiamo provocare, tra virgolette, il Signore sputando, perdonatemi il termine, sulle grazie, disprezzando le grazie a tempo indeterminato e pensare che una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinquecento volte, tanto Dio sta sempre lì. Non funziona così. Questo lo diceva anche il santo curato d'Arze. Io sempre un pochino diremo per fare questi discorsi, perché poi le persone che le prendono la mente si terrorizzano, si impressionano. Allora, questi discorsi sono da applicare a persone che sono, insomma, ostinate, cioè a persone che hanno la dura cervice, come dice la saga scrittura, quindi a persone che non a persone buone che cercano di fare quello che possono essere, magari può succedere che si sbagliano, che mandano in fumo una grazia dell'Altissimo. Questo non è un problema. Ma qui ci sono situazioni di comportamenti posti in essere con profonda malizia. Questo ha cominciato ad odiare, quindi guardate la ticca di controllo Spirito Santo che ha fatto Saulo. Il primo è l'idea della grazia altrui, no? Non sono tanto invidiato la grazia di Davide, ma quello che è stato il suo aiuto, il suo salvatore, perché Golia l'ha affrontato e l'ha vinto Davide. Quindi, inziché essere contento e grato, lo lo ammazzi, lo vuoi uccidere. Prova ad ucciderlo, ti grazio una volta, ti prendi il lembo del mantello e per tutta la risposta che fai, continua a perseguirlo, fino a quando non ti grazio una seconda volta. Massacri, fai massacrare gente, sacerdoti, quindi unti del Signore più di quanto lo seduto, vedete la differenza, no? Fai massacrare è l'omicidio volontario. Amici cari, ricordiamo che è un peccato che grida vendetta al rispetto di Dio, cioè trucidare dei sacerdoti perché secondo te hanno coperto il tuo avversario che tu vuoi uccidere ingiustamente, ma queste sono cose grosse, sono cose grosse. E anziché pentirsi umilmente, questo si mette a consultare, ah ma se ho consultato il Signore e il Signore non mi ha risposto, allora che faccio? Anziché piangere, cadere, cadere con la faccia di terra, pentirsi? No, che va a fare? Va a consultare la necromante. Altro peccato mortale. E non si può. Ricordiamola questa frase, misi cari, la misericordia di Dio è finita, ma la pazienza no. Non abusiamo della pazienza di Dio. La storia di questo fatto lo dimostra, è in continuazione. Si rifletta, si badi, si pensi, pensiamo, quando Gesù piange su Gerusalemme, non è riconosciuto il tempo in cui è stata visitata, non resterà su di te pietra su pietra. La conosciamo la storia? Che vogliamo fare? Non possiamo, non siamo autorizzati a farci, come dire, immagini di Dio distorte sulla base di quello che noi pensiamo, quindi prestare a Dio i nostri pensieri o le nostre rappresentazioni di quello che vorremmo che fosse. Non lo possiamo fare. La Sacra Scrittura, la rivelazione complessivamente considerata, serve anzitutto a darci dei parametri. Quindi è chiaro che la Sacra Scrittura parla immensamente e dovunque, con un crescendo sempre più entusiasmante della divina bontà e della divina misericordia, ma parla pure della giustizia e parla pure del fatto che Dio non si ride, Dio non si sfida, non si deve abusare della sua pazienza. Scusate, il diluvio universale cosa è stato? Non è stato un altro reset divino? È paziente, è paziente, è paziente, dopodiché quando l'umanità tocca un culmine di perversione e corruzione molto al di là del limite del sopportabile, il diluvio universale. Amici? E ci pensa lui a stabilire, non sono gli uomini che, noi adesso stiamo in giro, purtroppo anche a livello ecclesiale, perché ne ho detto anche nei giorni scorsi, alcune cose cominciano ad essere dette apertis verbis, apertamente, perché un sinodo nel nord Europa è finito, le cose che sono uscite da quel sinodo non sono affatto condivisibili né tantomeno raccomandabili, dovrebbero essere stoppati e fermati da chi ha l'autorità di farlo, speriamo che questo avvenga, e se non avviene chi ferma questi? Noi dobbiamo sperare che in qualche modo nostro Signore ci metta le mani, è certo che poi gli scenari non si possono prevedere, e a livello di altro, chi è che ferma l'avanzata del gender? Chi è capace di opporsi a queste cose qui? È chiaro che ci opponiamo tutti quanti, ma di fare un'opposizione tale che sia capace di arginare un fenomeno che sembra una marea montante. Saremo capaci in Italia ad arginare le spinte che vogliono far diventare anche in Italia legge il suicidio assistito con l'affronta delle sofferenze di Gesù Cristo che aveva nasia? E che facciamo dopo? Allora, dietro queste cose, ricordiamo le parole di Davide, no? ci penserà al Signore. Certo, nel frattempo Davide non è che sta a guardare, nel frattempo Davide ha cercato di difendersi in qualche modo, perché questo era un pazzo furioso questo qui e lo ha fatto, difendendo lui, difendendo anche ciò che c'era da difendere e da proteggere. Alla fine Saul muore. Nel capitolo 31 vediamo la morte di Saul, la dobbiamo andare a leggere semplicemente per andare a vedere un piccolo particolare, scalo con i capitoli, perché ci aiuterà poi a comprendere la reazione che Davide avrà dinanzi alla morte di Saul, perché Saul si trova in battaglia, la battaglia incruderisce, viene ferito e Saul dice al suo scudiero spodera la spada e trafiggimi prima che vengano quegli incirconcisi e trafiggermi a schermirmi. Lo scudiero non volle, perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e si gettò sopra. Quando lo scudiero vede che Saul era morto, si gettò anche lui sulla spada e morì con lui. Però attenzione, il giorno dopo i chi li stavano a spogliare, devo solle solle eccetera eccetera. Comunque, nel secondo capitolo che cosa succede? Al terzo giorno arriva un uomo dal campo di Saul con la veste stracciata e dal capo con lo spazio di polvere. Caeva presso Davide, siamo al capitolo 2 del libro di Samuele, si prostra a terra. Davide gli chiede, da dove viene? Dice, sono fuggito dal campo di Israele. Gli domandò come sono andate le cose? Dammi notizie. È successo che il popolo è fuggito nel corso della battaglia. Molti del popolo sono morti anche se il suo figlio Gionate. Davide chiese al giovane che gli portava le notizie. Come sai che sono morti se il suo figlio Gionate? Il giovane che ricava la notizia rispose ero capitato per causa sul monte Gelbo e vi diceva al curvo sulla lancia, lo attaccavano con carri dei cavalieri. Egli si forse indietro, mi chiamò e mi chiamò e dissi eccomi. Mi chiese chi sei tu? Gli risponde sono non malecita. Mi disse getta sopra di me, uccide i miei sentibrividi, ma la vita è ancora tutta in me. Io gli ucciso e l'ho ucciso perché capivo che non sarebbe sopravvissuto alla sua caduta. Ho preso il diadema che era sul suo capo e la catenella che aveva il braccio e li ho portati qui al mio signore. Davide afferrò le sue vesti e lo stracciò, anziché gioire di questo. E così fece tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono la mente, pianzero e digiunarono fino a sera per Saulo e Gionata, suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa di Israele perché erano solo di spada. Davide poi chiese al giovane che aveva portato la notizia. Di dove sei tu? C'è su una figlia di un forestiero a malecita. Davide gli disse allora, ma come non hai temuto di stare alla mano per uccidere il consacrato del Signore? Davide chiamò uno dei suoi giovani e gli disse accostati e ammazzalo. E lo colpì subito, quelli morì. Davide gridò a lui il tuo sangue ricadere sul tuo capo a testa contro l'idea da bocca che ha detto io ho ucciso il consacrato del Signore. Questo tizio aveva trovato Davide, aveva trovato Saulo in fin di vita e lo aveva finito, ma sarebbe morto lo stesso. Davide lo uccide perché ha osato alzare la mano sul consacrato del Signore. Quindi capite fino a che punto arriva questo zelo, questa attenzione di Davide. Ora, terminato questo episodio, sguicciamo un attimo sulle slides, così possiamo andare a vedere come prosegue il percorso. Abbiamo l'ampia sezione del secondo libro di Samuel dedicata al Regno di Davide. Il sommario è questo. Evidentemente capite qui non leggiamo tutti quanti i capitoli, cerchiamo di dare una rappresentazione globale degli episodi, traendone anche evidentemente frutti e insegnamenti anche a livello esistenziale per noi, perché questo è il motivo per cui ci accostiamo alla Sacra Scrittura. Guardando gli eventi focali, è impossibile approfondire tutto, capite, no? Nei margini distretti di un ciclo appunto di catechesi così ampio che vuole andare a scandagliare, diciamo, a grandine tutto l'Antico Testamento. Allora, andiamo. Davide, anzitutto, è di Giuda, perché il primo territorio dove dovrà regnare è Giuda, Ebron in particolare. Poi Davide diventerà di tutto Israele, viene condotta all'Arca a Gerusalemme, capitoli 2, 5 e 6 del secondo Salmo. La profezia di Natan e poi l'episodio che avrebbe segnato per sempre la vita di Davide. L'adulterio con Bezzabea, capitolo 11, e l'omicidio per coprire l'adulterio del marito di questa, del poro disgraziato, marito di Bezzabea, Uria Littita. I castighi divini conseguenti a questo episodio, molto severi, la nascita di Salomone e poi cominciamo a vedere alcuni castighi divini, la rivolta di Salomone, la maledizione di Simei, capitoli 15 e 16, la morte di Salomone, anche qui il figlio rivoltatosi contro, che poi vedremo verrà ucciso, e la reazione di Davide alla morte di Salomone di nuovo e poi altro guaio, perché due grossi guai ha fatto Davide nella sua vita, l'adulterio e poi il censimento, si mette in testa di andare a contare quanti sono i suoi scudi, ti succede il finimondo per lì, vedremo che Dio lo mette alle strette e dice adesso ti faccio scegliere a te, scegli uno di questi tre castighi e succederà il finimondo e poi c'era l'elezione di Salomone come successore e la morte di Davide e con la morte di Davide siamo già entrati, con l'elezione di Salomone e la morte di Davide siamo entrati già nel libro librico seguente, che è appunto il libro dei re e nella storia di Salomone. Io credo che abbastanza rapidamente possiamo andare a vedere alcuni scorci, chissà se riusciamo a finire la storia di Davide, chissà, vediamo un po', proviamo. Allora abbiamo anzitutto rilevante qui andare a leggere qualcosa dell'ingresso dell'alleanza a Gerusalemme, cioè il capitolo sesto del secondo libro di Samuele. Switcho un attimo e torno di qui. Perché? Perché quando conducono l'arca a Gerusalemme, vedete, Davide e tutta la casa di Israele danzavano al Signore con tutte le forze, con canti, cetre, arpe, tamburelli e cimbali. Poi un tizio, questo certo Uzzà, stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne perché poi vacillavano. L'ira del Signore si accese contro Uzzà. Dio lo percosse per la sua negligenza e glielo morì sul posto verso l'arca di Dio. Davide in quel giorno ebbe timore e non voleva, e parcheggia l'arca a Obededom. Mentre quelli portavano l'arca del Signore, però, egli danzava, danzava, danzava con tutte le forze davanti al Signore ed era cinto di un epodo di Lino. E che succede? Un altro episodio rilevante, che quando l'arca del Signore entra nella città di Davide, dopo questo parcheggio, Michal, figlia di Saul, guardando dalla finestra vive il re Davide che saltava e danzava, anzi al Signore lo disprezzò ancora il suo. Ebraico è bellissimo, no? Va Bez lo Belibach. Bez è proprio un verbo, proprio il disprezzo, proprio mi fa schifo, ecco, mi fa il ribrezzo, ecco. E questa poi c'è anche nel versetto 20, la sfrontata di Sera, andagli era a dire, diceva, l'onore si è fatto oggi il re, sto leggendo qui, e al versetto 20, scoprendosi davanti agli occhi dei suoi servi come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla, e sentite la risposta. L'ho fatto dinanzi al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre, ho danzato davanti al Signore, anzi mi abbasserò anche di più di così, e mi renderò vile ai tuoi occhi, presso quelle servi di cui parli, proprio presso di cui sarò onorato. Attenzione, vedete quanto è difficilante questo episodio, no? Uno, ci sono due cose importanti. Quello che ha toccato l'arca del Signore che muore, gli interpreti, non era autorizzato a toccare l'arca del Signore, perché non era un sacerdote. Sapete che qui ci sono le applicazioni, no? Alcuni commentatori di quei grandi parli che commentavano l'Antico Testamento dice, l'arca del Signore è figura della Madonna, no? Guai a chi tocca la Madonna! Ma c'è anche altre applicazioni possibili, no? Toccare le cose sacre. Chi è che tocca le cose sacre? Qui ci stiamo già arrivando subito a che applicazioni potremmo fare. Chi è che tocca le cose sacre? Pensate oggi alla dissacrazione che c'è in giro, alla differenza che c'è dal contesto attuale, voi sapete che una volta sul presbiterio non poteva proprio entrarci nessuno, le balaustre segnavano il limite invalicabile, cioè lì sopra ci entra il sacerdote, non soltanto che non si toccano le cose sacre, ma ci entra soltanto il sacerdote. Pensate che i sacrestani non potevano preparare il calice del sacerdote, perché i calici una volta, adesso non più purtroppo, venivano consacrati con il crisma. Una volta che sono consacrati non li tocca nessuno se non il sacerdote. Quindi questo senso di sacralità non si vede forse adombrato in questo singolare episodio, guardate che questo non fa qualche tempo a toccare l'arca che viene fulminato dall'ira di Dio. L'ira del signore si è accese contro il sacerdote, questa è l'espressione tipica dell'ebraico, no? Af Adonai, Af in ebraico significa il naso, no? Perché l'ira è l'immagine in ebraico che avete visto il naso, avete visto il toro quando gli soffia il naso, quindi c'è Af Adonai, ma si è accese, quindi Tutuburn, Harà, proprio si contro Uzzà e lo stecca subito subito e lo percosse ed egli morì sul posto presso l'acqua di Dio. Allora, vogliamo trarre qualche insegnamento oppure l'atteggiamento di Davide che si umilia e danza davanti al Signore, quindi che per rendere culto al Signore, ti rende spreggevole agli occhi degli uomini. Ah, qui la voglia, dobbiamo fare un po' di applicazioni esistenziali, pensiamo alla gente che non si inginocchia davanti al Signore che si vergogna. Che faccio, mi abbasso, poi che cosa penseranno di me? Prendiamo esempio da Davide, penserai male, ah se tu pensi male ve ne invento qualcun'altra per farti pensare ancora peggio, se è per rendere gloria al Signore, no? Pensate a quante oggi va fuori moda, è fuori moda per le signorine andare in chiesa a capo coperto, sono poche eroine quello che lo fanno, perché se uno fa una cosa del genere, figurati, apri di cielo, no? Succede il finimondo. Ah, succede il finimondo? Allora, se io non ho interiorizzato, non capisco l'importanza di una cosa fatta per il Signore, non l'ho interiorizzato, non la faccio, per questo motivo non fa niente. Ma attenzione che se io non faccio una cosa per amore del Signore, perché ho timore della amica di turno, d'accordo? Cioè della figlia di Saul di turno che viene a dirmi, bella figura che hai fatto, bella roba a umiliarti così davanti agli occhi di tutti, il re di Israele. Dice, sì? Allora io farò ancora peggio, però se tu dici così. Quindi Davide è questo grande esempio di amore incondizionato al Signore che non ha paura non di ostentare, attenzione, ma di mostrare dei giusti e anche fervorosi atti di urto, nonostante, tra virgolette, lo scandalo, lo scandalo nel senso buono, questo non era lo scandalo di cui parlo già nel Vangelo, quindi che avrebbe potuto suscitare. Questo dobbiamo ricordarcelo, credo, perché sono esempi abbastanza costruttivi. Detto questo, la profezia di Nathan, a un certo punto la profezia di Nathan è molto semplice. Davide dice, allora qui Starca dell'Alleanza abita in una tenda, versetto 2 del capitolo 7, qui bisogna che io gli costruisco un tempio al Signore. Dice, alt, quella stessa notte fu rivolta la parola del Signore, vai e dia al mio servo Davide. Così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? No, no, non me la costruirei tu una casa. E qui ci sono due cose che dice il Signore. Io ti costruirò una casa, versetto 10, dopo che gli ha detto ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il greggio, sono stato con te dovunque sei andato, distrutto tutti i tuoi nemici, renderò il tuo nome grande con Ucrite che è più grande della terra. Io fisserò un luogo, ma io ti darò riposo dai tuoi nemici, ma io farò a te una casa. Susciterò un tuo discendente dopo di te, uscirò dalle tue viscere e renderò stabile il tuo regno. Attenzione, qui il Signore sta prophetizzando, qui c'è il doppio livello, no? E gli edificherò una casa al mio nome e renderò stabile il tuo regno per sempre. Allora, qui da un lato c'è Salomone, che avrebbe costruito realmente il Tempio di Gerusalemme. Eh, ma dall'altro lato c'è un ben altro discendente che spero che capiate chi è. Un grande discendente, uscirò dalle tue viscere. Gesù è discendente di Davide. E il suo regno altro che stabile, durerà in eterno. E il suo regno sarà reso non stabile, ma che non tramonterà mai. Ecco, quindi questa profezia è importante. Vedete qui anche un altro insegnamento che possiamo trasmere, no? Quindi Davide ha un grande progetto, dice Stark abita in un luogo non adatto, no? Non era compito suo. Bella idea, ma non è la volontà di Dio per te. Molte volte ci possono avere tante tante belle idee. Ma siamo sicuri che il nostro Signore voglia questo? Da me vuole che lo faccio io? 100%? Per Davide non era così. Il Tempio lo costruisce il tuo figlio. E il grande Tempio, Tempio con la T maiuscola, cioè la casa di Dio, che è la Chiesa, a me lo costruisce un bel altro discendente molto grande, il cui regno sta stabile, che è il nostro Signore. Andando avanti, l'altro passo importante, e adesso questo dobbiamo andare a vedere, penso che lo conosciamo, è l'adulterio e i castighi divini. Quindi secondo Samuele 11 e 12. Questo vi consiglio vivamente, anche perché la Quaresi non è quanto mai adatto per questa cosa qui, di leggerle con attenzione questi due capitoli e di farne oggetto di meditazione. Allora, qui abbiamo Davide, che un bel giorno, un tardo pomeriggio, si alza dal letto, vedete che Lozio è padre dei vizi e si mese a passeggiare sulla terrazza della legge. La terrazza vi dò una donna che faceva il bagno, la donna era molto bella all'aspetto. Si informa su Chia e dice Bezabea, figlia di Eliam, moglie di Uria Littita. Davide manda dei messaggeri a prenderla e già con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Ok, d'accordo? E la torna a casa e manda d'annunciare a Davide, sono incinta. Allora Davide che fa? Deve coprire il suo adulterio. Dice, mandami a chiamare Uria Littita. Ioab manda Uria da Davide. Allora, che succede? Che qui Davide ha fatto i conti senza l'oste, perché lui ha combinato un guaio, ma questo suo fedele soldato era un soldato di moto. Allora che cosa fa? arrivato Uria, Davide gli chiese come se stessero ioab e la truppa e comandasse la guerra. Poi Davide disse a Uria, scendi a casa tua, lavati i piedi. Uria esce e gli fomentare dietro una porzione delle vivande del re. Quindi, diamo un po' di vivande, quindi mangia un po', beve, così poi starà con sua moglie e il figlio suo. Questo era il piano. Ma Uria dormì alla porta della legge con tutti i servi del suo signore. E chiaramente i servi di Davide dicono, Uria non è sceso a casa tua. Allora Davide disse ad Uria, ma scusa, ma non vieni da un vivangio? Perché non è sceso a casa tua? E sentite la risposta di questo santo uomo. Uria rispose a Davide, l'arca Israele e Giuda abitano sotto le tende, ioab mio signore e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna, stanno in guerra e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per piacere con mia moglie? Per la tua vita e per la vita della tua persona? Non farò mai una cosa del genere. Allora Davide scogge un'altra cosa, lo fa stare un altro giorno, lo invito a cena e lo fa ubriacare. Dico, mo non sarebbe mangiata la pienanza del re a casa sua? Dice, mo lo invito a casa mia, le faccio fare una bella tripata, una bella ubriacata, così scenderà, scenderà e farà quello che deve fare e tutti vivremo felici e contenti. Dice, rimani anche qui, anche oggi e ti lascerò partire. Lo invita a mangiare, a bere, lo fa ubriacare, ma la sera Uria uscì, ma per andartene sempre a dormire sul suo ciglio con i serviti del suo signore e non scese a casa sua. Allora Davide che fa? Dice, dobbiamo eliminarlo. Evidentemente non viso aperto, scrive una lettera a Yoab e gli la manda e dice, nella lettera, ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resta colpito e muoia. E così accade. Adesso non leggo tutta quanta il termine del capitolo. Insomma, Uria muore in questo modo. Attenzione. Passati i giorni del luto per Uria, Davide mandò a prendere Bezbea, sto a Primo Samuere 27, e l'agricola a sua casa e l'agricola a sua moglie e gli partori un figlio. Attenzione. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Asher Asa David, bene Adonai, L'opera che aveva fatto Davide agli occhi del Signore, Vajara, era malvagia. E che cosa fa? Gli manda il profeta Nathan e gli racconta una bella paraboletta, la paraboletta della pecorella e dei due uomini, uno ricco e uno povero. Dice Nathan, due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero, ricca e abbestiai, nute e grossi in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, sino una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Era vissuto e cresciuto insieme con lui e con i figli, mandando del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno, era per lui come una figlia. Un vinnante arrivò dall'uomo ricco e questi evitando di prendere dal suo bestiame nute e grosso quanto era da servire al paggiatore che era venuto da lui, questa era la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Vedete, il naso di Davide, vedete, l'ira di Davide si accese, la stessa cosa che prima con l'ira del Signore, no? Vaikar af David, beish meod, quindi meod, molto, quindi l'ira del Signore, l'ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo, beish, e disse per la vita del Signore e per chi ha fatto questo è degno di morte, pagherà quattro volte le parole della pecora per aver fatto una cosa del genere e non aver evitato, ma da Natale gli disse, ecco qua, dolcezza fredda, tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo. E prosegue, così dice il Signore, io di Israele, io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco io vi avrei aggiunto anche altro. Ora perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai tuoi occhi? Tu hai colpito di spada Uriah Littita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ecco le sanzioni, ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uriah Littita. Così dice il Signore, ecco io sto per suscitare contro di te il male della tua stessa casa, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darla ad un altro che giacerà con loro alla luce del sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan, ho peccato contro il Signore. Natan risposa a Davide, il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai, tuttavia poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Terza sanzione. Allora, le sanzioni sono il figlio nato dall'adulterio muore, le mogli di Davide gli vengono prese davanti a tutti e sotto gli occhi e alla luce del sole, non di nascosto, e la spada non si allontana mai dalla sua casa e vedremo che Assalonne, il figlio, gli si rivolta contro, volendo uccidere il padre di Spada. Non tutti sanno che in questa circostanza, dopo questo episodio, basta andare a vedere la nota della Bibbia di Gerusalemme, Davide scrive il famoso Salmo 50. Davide è un grande perché si pente, i castighi li accetta tutti quanti, dove si vede questo, episodio molto importante, dopo la rivolta di Assalonne, abbiamo visto, al capitolo 16, mentre Davide sta scappando dalla rivolta di Assalonne, non serve per i brani perché basta ricordare il sommario, c'è la rivolta di Assalonne nel capitolo 15, quindi Assalonne il figlio di Davide si ribella e comincia ad organizzare un esercito per rovecciare il padre e quindi Davide deve scappare e andiamo al capitolo 16, vediamo che cosa succede, come si vede l'umiltà di Davide, che l'ha fatta grossa, però accetta i castighi. Andiamo a 2 Samuel 16, velocemente. Ecco, quando poi il re Davide fu giunto a Bakurim, uscire di là un uomo della cramiglia della casa di Saul, chiamato Simei figlio di Gera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra. Così diceva Simei, maledicendo Davide, vattene, vattene, sanguinario malvagio, il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale tu regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di al salone tuo figlio ed eccoti nella tua rovina perché sei un sanguinario. Allora Abisai, figlio di Zeruià, disse al re, ma perché questo cane morto dovrà maledire il mio Signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. E Davide risponde, che ho io in comune con voi figli di Zeruià? Se maledice perché il Signore gli ha detto maledici Davide, attenzione a questa fase e chi potrà dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servi, ecco il figlio è uscito dalle mie viscere, c'è l'editorio della mia vita e allora questo benianimità ha lasciato maledire, perché glielo ha ordinato il Signore e due, forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Anche questo c'è da farci un quadretto, amici. Davide capisce che questa umiliazione, quindi questo qui che lo andava a gettare gli sasi addosso, a dirgli a me sa che la sporta, è un castigo. Glielo ha ordinato il Signore. Voglio vedere chi di noi è capace di questa cosa qui. Amici cari, oggi più di qualcuno nega che esistano i divini castigli, andando contro tutto quanto alla Sacra Scrittura. Noi quando ci capita un guaio, io lo faccio, ve lo confesso candidamente, dico allora, prima di dire è una prova, è una tribolazione, o povero me, il Signore mi sta provando con la croce. Sì, forse. Ma guardate che molte cose non belle che ci capitano, sono le conseguenze dei nostri peccati. E chi è che deve fare discernimento? Tu devi fare discernimento, tu devi fare discernimento, nella tua coscienza, sapendo, e attenzione, quelle non sono vendette da parte del Signore, non è che il Signore dice adesso te la faccio pagare. Non è questo il senso. Castigo significa rendere casto, purificare, espiare, scrostare il male generato dal peccato che hai commesso. Il castigo è un atto di amore da parte del Signore. Io quelli che amo, si legge nel libro dell'Apocalisse, li rimprovero e li castigo. Libro dell'Apocalisse, eh? Non lo dico io. Il castigo è un atto di amore, non è un atto di amore, ma castigo, quanto è cattivo. No! Guai a te se non ti castiga più. Guai a te se non ti rimprovera più. Perché non ti rimprovera, non ti castiga più, quando il Signore sa che non c'è più niente da fare. Che hai passato il limite, mentre il castigo e il rimprovero sono ancora strumenti di misericordia, di ravvedimento e di conversione. Bene, amici, il ciclo di Davide è quasi terminato, però è terminato anche il tempo a nostra disposizione, per cui dobbiamo fermarci qui e la prossima volta vedremo la morte di Assalone, perché se ne sono dei brani troppo importanti, quindi la morte di Assalone è una reazione di Davide, il censimento quindi è l'altra stupidaggine grossa e le altre botte che si prende Davide zitte, buone se le tiene e poi ecco la fine del ciclo di Davide e l'elezione del successore. Purtroppo la vicenda di Davide è abbastanza avvincente, articolata e ci sta da vergognarsi che ha fatto una sintesi veramente proprio di tutto all'essenziale, spero costruttiva ed edificante. Io chiedo perdono per i disordini e per le imperfezioni della prima parte di questo nostro incontro con quell'inversione dei brani. Abbiate pazienza, se non l'avessi preparati era meglio insomma, ecco, la prossima volta andiamo a dritta e va bene. Perdonatemi e che Dio vi predica e la mia donna sempre vi protegga.